segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te proprio di no massimo gramellini vorrei che tu ci raccontassi e così veniamo a intanto massimo gramellini che un nuovo acquisto della 7 che farà un nuovo programma qui sulla nostra rete il sabato e la domenica dopo il telegiornale alle 20 e 30 il programma si chiamerà in altre parole quindi cosa sarà e quali saranno queste altre parole e come cominci beh insomma sabato avrò anche roberto vecchioni con me oltre tutta la nostra squadra jacopo veneziani saverio raimondo alessandra sardoni un volto storico della rete e certamente cominceremo esaminando le parole di ellis line visto che lo hai lanciato tu il tema in questo studio e anche diciamo le parole della meloni un anno dopo no come sono cambiate in un anno le parole che pronunciava un anno fa quando vinceva le elezioni confrontate con le parole di oggi e con i fatti di oggi senti massimo tu hai scelto di andare via dopo tanti anni dalla rai prima che la rai di questa destra al potere prendesse forma e com'è adesso questa rai come la vedi sono proprio l'ultima persona che ne puoi parlare per come dire per questioni di di stile adesso la stagione comincia di fatto realmente questa settimana quindi ti prometto che ti darò ti lo dirò la prossima volta che vengo lasciamoli lasciamoli partire lasciamoli partire allora direi tutti lasciamoli partire no intanto appunto intanto ricordo tu sabato domenica qui sulla sette con in altre parole che comincia dopo il telegiornale giornale